Benvenuti alla quinta lezione sulle correnti in pressione. Il problema di cui ci stiamo occupando è quello di trovare le dissipazioni di energia che una corrente subisce nel suo movimento all'interno di un condotto. Stiamo trattando il caso di corrente in moto uniforme, torneremo sul concetto di moto uniforme un po' più avanti. La metodologia che stiamo adesso impiegando è l'analisi dimensionale. Attraverso questa strada abbiamo trovato la cadente nel caso di moto laminare. Per la verità questo risultato eravamo arrivati anche per via analitica e l'analisi dimensionale ha confermato i risultati che avevamo trovato per via analitica e quindi questo ci ha rassicurato sulla bontà del metodo che noi stiamo utilizzando. Poi ci siamo occupati del moto puramente turbolento e del moto turbolento di transizione in tubi lisci. Questa è evidentemente un'ipotesi restrittiva che per il momento siamo stati costretti a adottare e che vedremo di eliminare nel corso di questa lezione. Nel caso di moto puramente turbolento e di moto turbolento di transizione in tubi lisci abbiamo visto che è valida sempre la formula di Darcy Weisbach. 8 uguale lambda v quadrato fratto 2gd nella quale formula l'indice di resistenza lambda risulta essere costante nel caso di moto assolutamente turbolento. Risulta invece essere funzione del numero di Reynolds nel caso di moto turbolento di transizione. Abbiamo anche fornito le espressioni dei legami fra il numero di Reynolds e l'anda nel caso di moto turbolento di transizione in tubi lisci. Le due formule che abbiamo fornito sono quella di Blasius sperimentale e quella di Pran von Karman invece che ha origine teorica. Adesso ci dobbiamo occupare in questa lezione invece del moto turbolento di transizione in generale del moto turbolento in tubi scabri. Dobbiamo indagare come l'indice di resistenza lambda dipenda dalla scabrezza della tubazione. Ci accorgeremo, tireremo fuori che nel caso in cui la scabrezza della mia tubazione sia una scabrezza artificiale, uniforme, questo legame è fornito dall'arpa di Nicurazze, un diagramma che vedremo in particolare. Nel caso invece in cui la scabrezza sia una scabrezza commerciale, quindi di tubazioni utilizzate nelle pratiche applicazioni, il legame fra l'anda e la scabrezza ci è fornito dall'abaco di mudi. Nel caso di moto turbolento in tubi scabri, la relazione di tau zero, il legame fra tau zero e le altre grandezze fondamentali del fenomeno è quella che vediamo, cioè dire in questo caso generale entra in gioco sia il diametro del condotto, cioè dire la geometria del condotto stesso, sia la velocità media della corrente V, sia le caratteristiche del fluido, la viscosità e la densità, sia la scabrezza della tubazione, che abbiamo genericamente indicato con il parametro S. Come abbiamo fatto in precedenza, assumiamo come terna fondamentale di riferimento il diametro, la velocità e la densità e con questa scelta il legame funzionale precedente può essere riscritto come tau zero uguale funzione di del diametro, della velocità, della densità, della scabrezza e al posto, come abbiamo visto anche in precedenza e nella precedente lezione, a posto della viscosità possiamo mettere l'espressione di questa viscosità in funzione di rho di V e di D e del numero adimensionale che è il numero di Reynolds. Se conduciamo l'analisi dimensionale come abbiamo fatto nel caso precedente, cioè nel caso di moto turbolento di transizione in tubi lisci, il risultato che otteniamo è questo che vediamo in questa relazione, cioè dire tau zero è pari al prodotto della densità per la velocità al quadrato, moltiplicato per il valore di lambda uno, cioè l'indice di resistenza, che in questo caso è funzione sia del numero di Reynolds sia della scabrezza. Anzi, a proposito della scabrezza, su cui dovremo ragionare in maniera dettagliata fra un po', mi faccio notare che nella relazione è inserita non la scabrezza assoluta della tubazione, bensì la scabrezza relativa, cioè rapportata al diametro della tubazione. Il perché di questa posizione è chiaro perché è evidente che a parità di scabrezza della parete essa conta di più se la tubazione è una tubazione piccola piuttosto che se la tubazione è grande. Se per esempio noi potessimo indicare in un millimetro la scabrezza della parete della mia tubazione, questa scabrezza conta in una certa maniera se il diametro è un diametro di 10 mm, conta sicuramente di meno se il diametro è un diametro di un metro. Quindi la scabrezza, la rugosità della parete si fa risentire di più se il tubo è piccolo di meno se il tubo è viceversa è grande. Per esprimere la cadente anche nel caso di moto turbolento in tubi scabri possiamo continuare a utilizzare la formula di Darcy Weissbach nella quale l'indice di resistenza lambda però in questo caso risulta coerentemente a quello che abbiamo scritto per lo sforzo tangenziale risulta essere funzione sia del numero di Reynolds sia della scabrezza relativa. e noi dobbiamo indagare quindi a questo punto quale è questo legame funzionale in maniera tale da poter dire di aver determinato completamente la cadente iota della nostra tubazione o della nostra corrente che si muove all'interno della nostra tubazione. Nella relazione precedente abbiamo indicato in maniera del tutto generica con S il parametro che caratterizza la scabrezza però è necessario adesso che invece definiamo in maniera più dettagliata questa scabrezza. e vedremo che ci sono alcune difficoltà in questa definizione e vediamo di analizzarle. La slide mette in evidenza che la scabrezza è una lunghezza però come definire questa lunghezza non è del tutto chiaro. A uno potrebbe venire in mente di definire la scabrezza della tubazione in relazione alle altezze delle protuberanze che abbiamo sulla parete della tubazione. e qua si pone un altro problema quale altezza prendiamo come altezza significativa della scabrezza? Potrebbe venire in mente di considerare l'altezza media di queste protuberanze. Però se confrontiamo due superfici di tubazione le quali abbiano lo stesso valore medio dell'altezza delle protuberanze però con forme assolutamente diverse ci accorgiamo che il discorso cade in difetto. E sicuramente nonostante la scabrezza media cioè l'altezza media della protuberanza in questi due casi che ho qua riportato sia esattamente la stessa viceversa gli effetti della scabrezza della parete è assolutamente diversa. Quindi sicuramente non può essere l'altezza media delle protuberanze a costituire il parametro per individuare questa scabrezza. potrebbe venire in mente di considerare l'altezza massima di questa protuberanza ma anche questa definizione cade subito in difetto perché se assumiamo l'altezza massima della protuberanza come caratterizzante della scabrezza dovremmo concludere che una superficie perfettamente liscia con una protuberanza di altezza H asteriscato sia esattamente equivalente a una superficie scabra in cui la massima la protuberanza con altezza massima sia H asteriscato evidentemente la cosa non funziona. che ci sia una difficoltà a definire geometricamente questa scabrezza la si vede anche considerando un esempio di questo genere. Supponiamo di avere reso artificialmente scabro una superficie incollando su questa superficie delle scabrezze uniformi a forma di dente di sega e facciamo un'esperienza facciamo percorrere questa superficie così resa artificialmente scabra una volta in un verso e un'altra volta in verso opposto cioè dire nel primo caso la corrente investe il lato minore del dente di sega nel secondo caso la corrente investe il lato maggiore del dente di sega che costituisce la scabrezza artificiale. Ora è evidente che nei due casi l'impatto della corrente con questo ostacolo dà luogo a fenomeni vorticosi diversi e siccome sono questi fenomeni vorticosi che causano le dissipazioni di energia è chiaro che nei due casi ho differente dissipazione di energia e quindi differente resistenza incontrata dalla corrente nel percorrere nello scorrere sopra questa superficie la superficie ripeto è la stessa però viene la scabrezza viene investita dalla corrente in modo diverso questa questa prova ci convince del fatto che non è possibile definire in maniera esatta la scabrezza attraverso una grandezza caratteristica della geometria della parete della nostra tubazione per per superare questa difficoltà di definizione della scabrezza il un ricercatore negli anni 30 al Nicurazze fece delle esperienze su tubazioni rese uniformemente scabbre Nicurazze agiva in questa maniera ha preso una prendeva una serie di tubazioni di diametro variabile rendeva scabbre uniformemente scabbre queste tubazioni incollando all'interno della tubazione stessa del materiale granulare di diametro costante della sabbia più o meno di diametro più o meno grande e dopo una volta che aveva fatto questo incollaggio verificava sperimentalmente le perdi di carico che avevano luogo all'interno delle diverse tubazioni vi voglio precisare che l'incollaggio delle particelle ovviamente avveniva immergendo la tubazione all'interno di un recipiente che conteneva del collante poi immergendo subito dopo la stessa tubazione all'interno di un recipiente che conteneva le particelle di diametro di voluto per cui si formava all'interno della tubazione questo strato uniforme di particelle di diametro di piccolo fatta questa operazione e fatte le prove sperimentali il ricercatore ha trovato che l'indice di resistenza lambda si poteva ben rappresentare l'andamento di questo lambda su un diagramma che in scala logarittmica sia in ascissa sia in ordinata aveva il numero di Reynolds e in ordinata l'indice di resistenza lambda e questo grafico è quello rappresentato in questa figura si chiama Arpa di Nicuraz e questo nome deriva dalla forma caratteristica delle curve che vi sono rappresentate evidentemente dal nome del ricercatore che l'ha ricavata per il moto assolutamente turbolento il ricercatore ha trovato che effettivamente il valore di lambda non dipendeva dal numero di Reynolds ma dipendeva siccome stava operando su tubi resi artificialmente scabri invece dipendeva dalla scabrezza relativa cioè dire nel caso di moto puramente turbolento le curve che mi danno il lambda in funzione del numero di Reynolds sono delle rette orizzontali le quali rette orizzontali sono parametrate con il valore di d piccolo fratto di grande cioè della scabrezza relativa delle tubazioni che noi stiamo considerando questa scabrezza relativa è crescente dal basso verso l'alto cioè dire in basso ho le tubazioni con scabrezza relativa più piccola verso l'alto ho le tubazioni con scabrezza relativa più grande in questo grafico sono rappresentati così un po' in maniera casuale i punti sperimentali per mostrarvi che in realtà i risultati sperimentali non giacevano sicuramente perfettamente sulla curva interpolare ma erano nell'intorno di questa curva ciascuna di queste curve poi proviene diciamo così da una curva precedente la quale a sua volta si stacca da una curva origine vedremo adesso subito qua nel seguito qual è il significato delle varie zone presenti nell'arpa di Nicurazze prima di andare a vedere come si comporta una tubazione di scabrezza definita di asterisco fratto di grande asteriscato al variare del numero di Reynolds corso allora i punti sperimentali trovati da Nicurazze non sono relativi solamente alla parte di moto puramente turbolento cioè allorché le curve sono diventate ormai delle rette orizzontali ma sono relative a tutti i regimi di movimento per cui Nicurazze si accorse che per il numero di Reynolds inferiore a 2000 i punti sperimentali che otteneva si disponevano lungo una retta che era la retta di moto laminare questo che cosa ci fa intuire subito ci fa intuire che siccome l'indice di resistenza landa figura nella formula di Darcy Weisbach il fatto che si trovi un indice di resistenza landa anche nel caso di moto laminare significa che la formula di Darcy Weisbach è possibile utilizzarla anche in moto laminare si tratta di dare a landa una espressione che valga nel caso di moto laminare questo lo vedremo successivamente dopodiché ripeto c'è questa curva da cui si originano tutte le altre curve e tutte le altre curve sono caratterizzate dalla scabrezza relativa la curva da cui hanno origine è la curva che rappresenta la situazione di tubo liscio fra il moto puramente turbolento e il moto turbolento in tubo liscio c'è una zona in cui le curve presentano questo andamento che è la zona di moto turborento in condizioni di tubo scabro allora andiamo a vedere come faccio come si fa attraverso l'arpa di Nicurazze a trovare il valore dell'indice di resistenza landa al variare del numero di Reynolds e supponiamo che da prima il numero di Reynolds sia inferiore al 2000 se è inferiore al 2000 vuol dire che il regime di movimento è laminare e quindi se io voglio andare a trovare il valore di landa basta entrare nell'abaco di Moody far riferimento alla retta di moto laminare e andare a leggere il corrispondente valore di landa vi faccio presente che la tubazione che stiamo analizzando è una tubazione caratterizzata dalla scabrezza relativa di piccolo asteriscato fratto di grande asteriscato cioè dire una tubazione di diametro di asteriscato nella quale artificialmente è stato incollato uno strato uniforme di particelle di diametro di piccolo asteriscato nonostante questo in condizioni di moto laminare la scabrezza non conta e questo lo sapevamo sia dal risultato dell'analisi che abbiamo condotto sia dai risultati che abbiamo trovato anche con l'analisi dimensionale cioè dire nel caso di moto laminare la scabrezza della tubazione non ha nessuna influenza perché a governare le resistenze sono sforzi di tipo viscoso e quindi la scabrezza non ha modo di esercitare la sua influenza se poi ovviamente nel caso di moto laminare invece l'anda l'indice di resistenza dipende dal numero di Reynolds questa relazione non la conosciamo ancora però la ricaveremo nel seguito prendiamo una corrente che abbia un numero di Reynolds compreso fra 2000 e Reynolds 1 Reynolds 1 è il valore del numero di Reynolds per il quale la curva caratterizzata da d piccolo asteriscato fratto d grande asteriscato si stacca dalla curva dei tubi lisci quindi noi stiamo indagando una corrente il cui numero di Reynolds è maggiore di 2000 che corrisponde al limite superiore del moto laminare e risulta essere inferiore al numero di Reynolds per il quale la curva che ci interessa relativa la scabbrezza della tubazione in esame si stacca dalla curva dei tubi lisci dove vado a leggere il valore dell'indice di resistenza lo vado a leggere sulla curva dei tubi lisci nonostante la mia tubazione sia una tubazione scavra tuttavia il suo comportamento è da tubazione liscia si dice che la tubazione è idraulicamente liscia qual è la ragione per la quale accade questo fatto la ragione è che come ci ricordiamo in corrispondenza alla parete c'è uno strato di fluido che si chiama substrato limite laminare nel quale substrato limite laminare nel quale substrato limite laminare gli sforzi tendenziali fondamentali sono gli sforzi di tipo viscoso e gli sforzi di tipo turbolento non contano niente cioè dire in questo straterello di fluido il moto è comunque un moto laminare abbiamo visto che nel moto laminare la scabrezza non conta e quindi fin tanto che la scabrezza della parete risulta essere completamente ricoperta dal substrato limite laminare la tubazione si comporta come una tubazione liscia lo spessore del substrato limite laminare è funzione del numero di Reynolds anzi è inversamente proporzionale al numero di Reynolds per cui all'aumentare del numero di Reynolds lo spessore diventa diventa sempre più piccolo e poi a un certo punto quando il numero di Reynolds ha raggiunto il valore Reynolds 1 lo spessore del substrato limite laminare è esattamente uguale alla dimensione di asteriscato della scabrezza e quindi questa scabrezza comincia ad affiorare al di fuori del substrato limite laminare da questo punto in avanti cioè da Reynolds 1 in avanti la tubazione si comporta come una tubazione scabra la relazione che lega l'indice di scabrezza landa e il numero di Reynolds nel caso di moto turbolento di transizione in tubilisci le abbiamo già viste e sono o la relazione di Blasius o la relazione di Plan von Karma se poi la corrente è caratterizzata da un numero di Reynolds compreso fra RE1 ed RE2 il primo valore del numero di Reynolds abbiamo detto già a che cosa corrisponde il secondo valore del numero di Reynolds corrisponde invece al punto nel quale la curva della scabrezza relativa che stiamo studiando diventa una retta orizzontale cioè dire al punto in cui il moto si trasforma da moto turbolento di transizione in tubi scabri in moto assolutamente turbolento in tubi scabri allora se il numero di Reynolds della corrente è compreso fra questi due limiti il valore di lambda lo vado a leggere sulla parte curvilinea della curva che mi rappresenta la scabrezza relativa della tubazione studiata di questa curva in cui si vede attraverso la quale si vede che l'indice di resistenza lambda è funzione e del numero di Reynolds e della scabrezza relativa non conosciamo tuttavia l'espressione né Nicuraz ne ha fornito un'espressione analitica se poi andiamo a trattare una corrente il cui numero di Reynolds è maggiore di RE2 abbiamo già definito questo limite siamo in zona di moto puramente turbolento e di conseguenza il valore di lambda lo leggiamo sul tratto ormai orizzontale della curva che stiamo considerando il lambda in questo caso risulta essere indipendente dal numero di Reynolds dipende solamente dalla scabrezza relativa resta aperto il problema di utilizzare la formula di Darcy Weisbach anche per il caso di moto laminare per risolvere questo problema basta confrontare la stessa formula di Darcy Weisbach con la formula che abbiamo ricavato per esprimere la cadente nel caso di moto laminare questo confronto a parità ovviamente di OTA ci consente di vedere quanto vale l'indice di resistenza lambda nel caso di moto laminare adesso facendo le opportune sostituzioni e semplificazioni si vede che l'indice di resistenza lambda nel caso di moto laminare vale 64 fratto il numero di Reynolds vedete che lambda risulta essere inversamente proporzionale al numero di Reynolds questa è una relazione fra lambda e Reynolds di tipo eperbolico la quale relazione però nel diagramma logaritmico sia in ascisse che in ordinate diventa una retta e la retta che abbiamo rappresentato abbiamo visto rappresentata prima nell'arpa di Nicurazze quindi da adesso in avanti possiamo dire che noi possiamo utilizzare sempre la relazione di Darcy Weisbach per esprimere la cadente che per applicarla correttamente è necessario esprimere correttamente l'indice di resistenza lambda al quale indice di resistenza ha espressioni diverse a seconda che siamo in moto laminare siamo in moto turbolento e nel caso di moto turbolento siamo in zona di moto turbolento di transizione in zona di moto puramente turbolento queste relazioni le conosciamo a volte già con espressione analitica altre volte ci dobbiamo accontentare solamente dell'espressione grafica che c'è sull'arpa di Nicurazze volevo anche sottolinearvi vedete qua le espressioni che valgono per il moto turbolento di transizione in tubilisci che Nicurazze ha dimostrato valide con le sue esperienze e quindi nel suo grafico nel caso di moto puramente turbolento in tubiscavri il Nicurazze sperimentalmente ma dal punto di vista teorico hanno ricavato una relazione che vale proprio in questa zona la relazione è 1 su radice di grande uguale meno 2 logaritmo di 1 su 3 e 71 di piccolo fratto di grande scabrezza uniforme diviso diametro della tubazione questa relazione mi fa sentire la necessità di ricordarvi che tutto quello che abbiamo detto fino adesso è relativo ai tubi resi artificialmente scavri da Nicurazze e quindi hanno una validità abbastanza limitata vi volevo anche ricordare che nonostante gli studi di Nicurazze il legame fra l'indice di resistenza il numero di Reynolds e la scavrezza relativa anche nel caso dei tubi artificialmente scavri non è stata ancora ricavata perlomeno non la conosciamo ancora ma tutto questo discorso che abbiamo fatto sui tubi artificialmente scavri mi fornisce spunti molto interessanti per poi passare ai tubi commercialmente scavri che sono quelli che in realtà poi ci interessano perché sono quelli che vengono impiegati nella pratica e quelli per i quali poi noi dobbiamo andare a valutare la resistenza e quindi le perdite di carico però ovviamente i risultati che noi abbiamo ottenuto per i tubi artificialmente scavri non sono trasferibili al caso dei tubi commercialmente scavri se non quando la scabbrezza non conta niente ci sono zone l'abbiamo visto nelle quali la scabbrezza non ha nessuna importanza per esempio nel moto laminare la scabbrezza non figura nella relazione che lega Iota e le altre grandezze che caratterizzano il fenomeno la scabbrezza non figura e quindi sicuramente le relazioni che abbiamo trovato nel caso di tubi artificialmente scavri sono trasferibili anche al caso di tubi commercialmente scavri tuttavia la relazione di Darcy Weissbach noi possiamo sempre utilizzarla anche per i tubi artificialmente scavri a patto di ricavare correttamente il legame fra l'indice di resistenza il numero di Reynolds e la scabbrezza relativa della mia tubazione questo in tutti i regimi di movimento e mettendo in conto una scabbrezza assoluta della tubazione che va determinata ad hoc siamo nel caso in cui questa scabbrezza è artificialmente cioè non è più quella artificiale ma è una scabbrezza commerciale quindi con un andamento del tutto generico casuale e quindi al numeratore della scabbrezza relativa non possiamo più inserire il diametro costante delle particelle incollate sulla parete ma dobbiamo trovare il valore da inserire questo valore da inserire abbiamo visto in precedenza che non può essere un valore legato alla geometria di queste protuberanze ma deve essere un valore di tipo sperimentale se volete questa epsilon è una sorta di coefficiente di teratura che fa tornare il modello che noi abbiamo pensato di utilizzare con i risultati di tipo sperimentale vi spiego subito come si fa a determinare questo valore di epsilon dicendo che lo si determina sperimentalmente cioè dire si portano in laboratorio i tubi si fanno diverse prove con diversi diametri e diverse caratteristiche dei tubi e questo ci consente di determinare sperimentalmente il valore di epsilon da segnare alla serie di tubazioni che stiamo provando tutte le case costruttrici di tubi hanno sperimentato in proprio i tubi di loro produzione oppure le ha fatte sperimentare presso laboratori qualificati tipo il nostro al Politecnico di Milano e il risultato è che sui cataloghi di queste tubazioni è inserito il valore di epsilon che viene consigliato vedremo la prossima volta come questi legami siano poi stati sintetizzati in un grafico sperimentale che si chiama Abba Kodimudi grazie grazie